Per alcuni ancora troppo presto, altri non si sentono abbastanza tranquilli. Superare le restrizioni anti-Covid è un desiderio diffuso, ma i giovani siciliani intendono ancora procedere con prudenza. Dopo oltre due anni di pandemia, il 31 marzo scorso in Italia è terminato lo stato di emergenza legato al Covid-19 e da venerdì 1 aprile sono cambiate le regole con un allentamento delle misure. I giovani siciliani, però intervistati dall'agenzia Italpress, esprimono ancora qualche perplessità. Le restrizioni vengono allentate, ma forse ancora troppo presto, forse dovrebbe passare ancora qualche mese, afferma un giovane. Lo stato di emergenza in realtà aggiunge un altro ragazzo, non è finito, ci sono sempre aumenti per quanto riguarda il Covid. Ancora qualche timore, quindi ancora difficoltà ad affrontare una quotidianità un po' più libera, ma soprattutto la consapevolezza che non si tornerà pienamente alla vita di un tempo, così come era prima del 2020, l'anno che ha stravolto il pianeta. Non sarà come una volta, dobbiamo stare sempre attenti, afferma una ragazza, più che stare tranquillo, spiega un altro giovane, mi sento in un'atmosfera diversa rispetto a due anni fa. C'è ancora incertezza, ma non manca il bisogno di tornare a vivere.